I genitori devono conoscere quali sono i fenomeni, quali sono i rischi, è forse un'utopia essere sempre aggiornati in tempo istantaneo. Quindi il consiglio che i professionisti della salute mentale danno in questi casi è di mantenere sempre il dialogo, l'apertura comunicativa e un'osservazione attiva verso i giovani, che è l'unica cosa che ci permette di essere aggiornati, ma non tanto su quello che è la comunicazione digitale, ma su quello che sono i sistemi emotivi e di funzionamento dei nostri figli. Senza controllo, le minacce del web viste dalla psicologia e le sue meravigliose opportunità è il titolo dell'ultimo libro della psicologa e psicoterapeuta Elisa Marcheselli, un testo che sarà presentato venerdì 10 novembre alle 18.15 al Tennis Club Castiglionese, un'iniziativa che apre un focus sul duplice volto di internet, generatore allo stesso tempo di infiniti rischi e opportunità. Parla di come possiamo aiutare i nostri figli ad avere un uso consapevole della tecnologia. Naturalmente non dobbiamo denigrare il mondo del web, ma è l'uso che ne facciamo a renderlo uno strumento positivo o negativo. Una lettura rivolta a giovani e adulti per affrontare i pericoli e sfruttare le potenzialità del web, analizzando e comprendendo i fenomeni più insidiosi del nostro tempo, come quelli legati al cyberbullismo, ma l'utilizzo dei social media da parte dei giovani potrebbe accrescere anche il rischio che quest'ultimi soffrano dei disturbi del comportamento alimentare. Purtroppo il collegamento disturbi alimentari e incidenza del mondo dei mass media è un collegamento ormai noto e conosciuto. Naturalmente non è l'unica causa che può in qualche modo mobilitare un adolescente a iniziare ad avere una cura eccessiva del proprio corpo fino a diventare una vera e propria patologia. Però i dati sono allarmanti. Il Ministero della Salute ci sottolinea che gli under 20 hanno assolutamente una difficoltà nella gestione e nell'accettazione del proprio corpo. Tra i disturbi del comportamento alimentare in aumento anche la vigoressia. È una sottocategoria di quello che in termine clinico viene definito dismorfofobia, che in termini molto semplici è il non accettare il proprio corpo ma vedersi con dei difetti importanti e quasi in maniera ossessiva si cerca di rimediare, in questo caso con la vigoressia, con degli allenamenti veramente estenuanti. Quindi c'è un allarme che anche il Ministero della Sanità sta dando molto importante riguardo un'attenzione che bisogna avere nei riguardi dei nostri giovani educandoli anche a un sano stile di vita.